ciao e benvenuti sul canale youtube di giochi sul nostro tavolo oggi procederò con il disinscatolamento di tripolo nella scatolina rotonda e metallica divenuta famosa grazie a doble troviamo un altro gioco con carte tonde carte fatte così hanno un disegno un colore e una lettera è portato in italia da dv giochi e ideato da maurin iron ecco le icone classiche dei giochi allora 6 99 l'età 2 6 giocatori 10 minuti la durata sottotitolo forza 3 tripolo forza 3 cerca una fila di due carte con la stessa immagine lettere o colore aggiungi una terza carta dalla mano e forma un tripolo riuscirai a finire le tue carte per primo in pratica questo è tutto il regolamento la scatola molto compatta siamo sui 9 centimetri di diametro come dicevo è metallica ok andiamo a guardarne le carte si vede che non è soltanto stampata ma è pressata queste sono le carte ulteriormente protette e qui abbiamo il regolamento di uno schema riassuntivo pubblicità e poi le carte le carte sono appunto in tre quattro colori quattro disegni quattro lettere abbiamo disegno lettera colore abbiamo le rosa blu gialle e bianche le lettere sono le prime quattro alfabeto a c b e d ed i geni sono bombe capre hot dog e pesci bene tanto per darvi un'idea si parte mettendo le carte in una griglia 3x3 e appena si vede una possibile una possibile tripletta si si completa bene in questo caso l'ho messo giù da cani ma diciamo che qui c'è una b qua c'è una b forma un tripolo ok non mi resta che lasciarvi la recensione già presente sul nostro blog e grazie per la visione